Io ero rivolto in 80, mia sorella, e non avevo mai immaginato che facevano la fine del genere. Io sono stato sul posto, io ho assistito a tutta la scena che c'era, l'orrore che c'era dopo la casa. E' morta accanto i suoi figli, i bambini con il pigiama e anche lui è rivolto a terra che l'ultimo corpo si era dato lui. E' serata una spiegazione di questo gesto? Non sappiamo ancora il motivo che ha fatto scaduire sta pazzia che ha fatto. Hanno detto cose che non sono vere, per esempio che mia sorella prendeva dei farmaci, invece quello sottofarmaci era lui. Perché prendeva psicofarmaci lui? Non lo so, non lo so. E' stato scritto che potrebbero aver avuto problemi economici? No, problemi economici non avevano assolutamente, il lavoro non ce l'aveva, la famiglia ce l'aveva, il soldi ce l'aveva, quindi era un pazzo sicuramente. E' stato scritto che potrebbero essere motivi di gelosia? No, assolutamente no, mia sorella non usciva mai. E' innamorata? Di suo marito si, se no l'avrebbe lasciata. Mi dispiace tanto che non l'ha fatto di più. Vogliono fare l'esame dello stab anche a tua sorella per capire se ha sparato lui o ha sparato lei? Ha sparato lui, ha sparato lui. Al 100%, cioè mia sorella non ce la fa nemmeno forse a guardare una pistola o a prenderla in mano. Quello che aveva il portodanno, aveva 4 fucili, 2 pistole, era lui, non mio sorella. Mia sorella non avrebbe mai ucciso nemmeno una mosca. Il pazzo era lui, non era come hanno scritto in tv, che era problemi economici, problemi di gelosia, assolutamente no. Quella è una molla che gli è scattata sto pazzo di poterla uccidere. Tutto qua. Il perdono? Come potreste? Ma il perdono non ce ne sarà mai. Infatti i funerali saranno anche fatti separati, senza la sua famiglia e senza di lui. Il perdono non ce ne sarà mai. Questa è di un acqu